Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 si viaggia rallentati per traffico tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sul raccordo autostradale si è una Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Pogibonsi e Tavarnelle. Possibili disagi anche tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pluneta. Riduzione di carreggiata nel viale Giovine Italia a Firenze per lavori urgenti di ripristino. È prevista per stamattina la lenta ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea regionale tra Firenze e Prato ma con possibili cancellazioni. I treni diretti tra Montevarchi e Pistoia saranno limitati a Firenze di Fredi. Prevista la cancellazione dei regionali diretti tra Empoli e Firenze Castello. Altre info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!